Per ragioni di sanità pubblica non dobbiamo muoverci dalle nostre case se non per comprovati motivi o cause di necessità. E un ottimo motivo per uscire di casa è quello di uscire per donare sangue. Esco solo per donare è infatti questo il nome della campagna Avis nata in questi giorni di emergenza coronavirus. C'è tantissimo bisogno di sangue in questo momento, ce n'è sempre bisogno, ma in questo momento la particolare condizione in cui ci troviamo rende impossibilitati dei nostri potenziali donatori a recalci al centro trasfusionale. Per di più c'è un'altra necessità, la necessità di mantenere la sicurezza del dono e quindi il rispetto delle distanze tra un donatore e l'altro. è stato eliminato nel nostro centro trasfusionale del San Donato, quella che è la sala d'attesa, per evitare che le persone si trovassero a distanza troppo ravvicinata. Questo permette comunque di mantenere le donazioni assolutamente sicure, ma ha una necessità. Ha la necessità di tenere un timing preciso tra un donatore e l'altro e questo impedisce di raccogliere molte donazioni in un giorno. Per questo ci è stata fatta richiesta da parte del centro trasfusionale di informare tutti i nostri donatori di recarsi a donare sangue solo ed esclusivamente su prenotazione. Questo diciamo non perché non sia necessario il sangue di tutti, anzi perché è indispensabile che si possano chiamare le sedi delle associazioni per poter prenotare appunto il dono del sangue perché potrebbe aspettarci un periodo più o meno lungo di difficoltà ed è importante dare la risposta che noi abbiamo sempre dato. Un appello lanciato anche dall'Astra Toscana Sudesta per sensibilizzare i cittadini dopo il calo delle donazioni di sangue negli ultimi mesi e che interessa particolarmente i gruppi A e 0, negativo e positivo. Anche la provincia di Arezzo infatti sta subendo un forte calo delle donazioni, circa il 25%. Tra gennaio e primi giorni di febbraio questo anno sono stati infatti raccolti dalle 132 alle 145 unità di sangue. Nelle scorse settimane il numero è sceso a 77. Ovviamente le donazioni di sangue da sempre sono garantite da un servizio effettuato nel rispetto di tutte le norme igieniche e da personale esperto. Le sacche di sangue non vengono utilizzate prima delle due settimane, hanno un percorso di trattamento particolare che permette di scongiurare qualunque tipo di rischio di trasmissione di patologie attraverso quella sacca di sangue. Quindi è un percorso che è sicuro per il donatore, che è un vantaggio per il donatore perché ha uno screening completo delle proprie condizioni di salute e è un'opportunità per aiutare gli altri senza alcun rischio.